Ti piace la cucina ruspante? Son ruspanti belli e buoni, spaghettoni e maccaroni! Casareccio vuoi il sapore? Spaghettoni a tutte l'ore! Vuoi che tenga la cottura? Spaghettoni e vai sicura! Se domani viene il nonno, maccaroni con il tonno! Che bella rima, eh? Fanne qualcuna anche tu e spediscila subito alla Vuitoni Perugia. Riceverai comunque una confezione di spaghettoni o di maccaroni. La pasta ruspante Buitoni.